È presente oggi a questo nostro momento di raccoglimento il Consul Generale di Tunisia che naturalmente ringrazio per questo atto di sensibilità. Tutti sappiamo come in queste ore abbiamo vissuto momenti di angoscia, di ansia e di dolore. La solidarietà e la vicinanza di tanti ci ha aiutato a vivere queste ore così difficili. Tra le tante attestazioni di solidarietà che abbiamo ricevuto ci sono quelle delle autorità tunisine, dell'ambasciatore di Tunisia che è stato tra le prime ore a manifestare la propria solidarietà del Consul Generale. Ieri abbiamo letto un messaggio del Consul Generale nel corso della manifestazione, oggi il Consul Generale ha voluto essere qui con noi, lo ringrazio e naturalmente vi lascio adesso la parola. Grazie. Grazie, grazie. Sono venuto oggi per esprimare tramite l'incontro con il signor sindaco le condoleanze calorose di Tunisia e della comunità tunisina a Torino per le famiglie dei vittimi, le vittime che sono i nostri amici e i nostri cittadini tunisini. L'incontro ha permesso a noi di andare avanti e di superare questa prova molto difficile per noi che con una volontà congiunta speriamo di superare per il futuro con dei legamenti che sono tradizionali dentro Torino e la Tunisia e che saranno più forti per combattere questo fenomeno del terrorismo che non è il proprio della Tunisia, è un fenomeno internazionale che è accaduto in tante città, tanti paesi, oggi a Tunisia e siamo solidari, italiani e tunisini, in questo tragico evento e con la solidarietà che il signor sindaco ha voluto dimostrare andremo dell'amante e vive l'amicizia tunisina-torinese. Grazie.